Previsioni meteo per martedì 28 aprile. Al nord perturbazioni soprattutto sul versante est, temporali su Triveneto ed Emilia Romagna. Al centro temporali diffusi su Toscana, Lazio, Umbria e Marche. Neve dai 1.400 metri, sole in Sardegna. Al sud pioggia su campagna occidentale e Calabria Tirrenica. Venti forti su Sardegna e versante tirrenico-ionico, deboli sul resto della penisola. Mari mossi e molto mossi sulle coste occidentali, calmi su quelle orientali, temperature primaverili su tutte le regioni.